Bene, come tutte le favole iniziano anche questa serata, è finita, no, 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 dobbiamo continuare, sì, purtroppo le tempistiche vanno rispettate. Bene, facciamo un grandissimo applauso e ringraziamo noi World in Progress e la Centra Barra per averci ospitato questa serata d'Augosto. Forza, fate un bel applauso! Ringraziamo anche il dottor Bluato di essere qui stasera e di essere rimasto qui, perché questo non è tutto, mentre ti segui la metà del concetto. Volevo ringraziare voi, anche se noi giochiamo in casa però dobbiamo fare il nostro lavoro, questo risultato, il risultato, il risultato, il risultato. Volevo ringraziare i miei amici. Volevo ringraziare i miei amici. Volevo ringraziare i miei amici. Vi saluto. Matteo Bander, Castiere. Adriano Piscovello e Argelino. Noi siamo i WalkinProgress Porto il nostro sito www.walkinprogress.it Poi abbiamo Facebook, Instagram Dove potete andare a trovarci Ci potete andare a trovare Un po' da tutti Emano Basilio è la voce Grazie, grazie Bene, buon fine estate a tutti Un ringraziamento di nuovo al Centraparra Al nostro amico Al mio amico Pasquale E un grazie a tutti E una buonanotte Grazie a tutti Una notte di settembre Grazie a tutti Grazie a tutti E una notte di settembre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti A voi Me l'avete chiesta prima Adesso non lo avete cantato Mi dobbiamo cantare Anche voi da un bel amante E un grazie a tutti E un grazie a tutti E un grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.